allora buongiorno sto facendo il mona insieme a peppa49 adesso sto facendo il video si sto facendo il video eh si così avrò questo qua in memoria vi mando come possiamo fare big visual anche voi iscritti da casa dateci dei consigli come fare big visual visto che voi siete le uniche persone che ci fanno finta di seguirci vedono i video vedono i titoli di video ma tanto non vado mai a cliccare perché pensate che siamo scemi scusate perché per favigie cosa pensate che siete un furbone eh eh beh ragazzi dobbiamo fare un piccolo sondaggio adesso aprite bene le orecchie allora io e maurizio salve vogliamo fare una live diteci sotto nei commenti se volete fare questa se volete che mi facciamo questa live ecco casomai se siete anche in zona potete venire anche voi come ospiti speciali non andremo un po in giro dove volete vi direte dove andare o un altro da fare cose del genere e niente benissimo e questi sono i bagni di new york però dovete essere in tanti ne ho mezzo almeno 34 potrei si potrei aspettare i 200 iscritti ah si e ti mando i miei iscritti va ok ne ho 200 quasi no guarda ne ho 250 vado vado quasi per 300 sa complimenti si si bene beh tu sei solo inizio sono tre mesi che faccio video beh io sono io sono quasi io sono due anni che faccio video cavolo già due anni quasi tre certo che sono vecchio tu che ho pensato dei fiori tu 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 è vero che c'è gente che fa video da praticamente già da dieci anni bello mi sento già come iotobi quando no non c'è abbastanza come com'è che iotobi è iscritto già da 29 anni sono uno strattino di video spazzatura e anch'io secondo te vado un po li ho cancellati buono fate vedere questo è una via us deve vedere canali e per 49 con mio amico iscrivetevi iscrivetevi al suo canale che mio amico si l'ho già detto e al canale di bad boy over 2000 che è il fratello a vedere siamo alessandro io ho dato io e basta arrivederci